Benvenuti sul mio canale, io sono il Gino d'Italia, come sentite io non so cantare, ma voglio insegnar l'italiano, voglio insegnar l'italiano. Benvenuti a tutti sul canale, io sono Gino, questo canale si chiama Gino d'Italia, è un canale di lingua italiana, usiamo le canzoni e le storie per imparare meglio l'italiano. Se non siete nati in Italia e volete imparare questa lingua, io cerco di aiutarvi, sono un insegnante italiano qua dalle colline intorno a Firenze e faccio questo lavoro da più di 30 anni, un sacco di tempo. Dimenticavo di dirvi che l'Italia è questa qua, nel bene e nel male. La canzone di oggi si chiama Canzone per un'amica e noi la useremo per parlare di verbi italiani al passato. Soprattutto il passato prossimo, ho comprato, sono andato, mi sono arrabbiato, è l'imperfetto, compravo, andavo, mi arrabbiavo. È una canzone del 1967, una canzone di Francesco Guccini, un cantautore che possiamo dire bolognese, anche se è nato a Modena, che abbiamo già menzionato quando abbiamo parlato, vi ricordate, di Claudio Lolli, di Michelle, ma Francesco Guccini è più famoso di Claudio Lolli e in più possiamo dire che è ancora vivo, anche se ha più di 80 anni e negli ultimi anni non ha scritto canzoni nuove. Anche questa canzone è molto famosa, Francesco la usava come prima canzone di tutti i suoi concerti ed è una storia vera perché racconta di un incidente stradale, un incidente terribile stradale che ha successo sull'autostrada, la principale autostrada italiana che si chiama l'autostrada del Sole o più brevemente Autosole il 3 agosto 1966. Questo incidente coinvolge due automobili, una in cui c'è l'amica di Francesco Guccini che si chiama Silvana Fontana, ha 24 anni, sta andando in vacanza con il suo fidanzato Augusto che ha 21 anni e che al volante sta guidando, guida Augusto. Improvvisamente la macchina salta il guardrail, va a finire sull'altra corsia e si scontra violentissimamente con un'altra macchina che sta arrivando in senso contrario. Le due persone dell'altra macchina muoiono subito, muoiono sul colpo si dice, mentre Silvana, l'amica di Francesco, morirà tre ore dopo. L'unico che si salverà la vita, anche se è molto ferito, è gravemente ferito, è Augusto, il ragazzo di Silvana. Quindi una canzone che racconta un fatto drammatico e un destino che può colpirci in qualsiasi momento. L'autore si domanda a cosa serve vivere, amare, soffrire, se improvvisamente tutto può finire senza preavviso e forse senza senso. Ma andiamo subito alla struttura del testo, che è veramente ottima per noi, per parlare di verbi italiani al passato. Descrive perfettamente la dinamica dell'incidente e lo fa in tre momenti distinti. Il prima, prima dell'incidente, vediamo la descrizione del contesto, durante l'incidente e dopo. Prima dell'incidente, l'autore descrive il contesto, il background, pochi minuti o addirittura pochi secondi prima del crash, dello scontro violento. È una descrizione statica, non c'è action, è semplicemente descritto. E per questo il tempo verbale imperfetto è ottimo per descrivere come un background prima di una azione. Ed ecco che avviene l'incidente, che è descritto in modo molto realistico e molto drammatico con il tempo verbale passato prossimo. Vi ricordate, ho comprato, sono andato. La descrizione è basata su domande retoriche rivolte direttamente all'amica morta. Cosa hai provato, cosa hai pensato quando la strada è impazzita, quando il cielo è crollato, cioè nell'attimo prima di morire. La canzone finisce con alcune considerazioni sulla vita e sulla morte fatte da Francesco Guccini con il tempo verbale presente. Francesco Guccini è un ateo e per lui è molto difficile trovare una consolazione, un pensiero, un concetto che può consolare quando una persona giovane e piena di vita come Silvana, la sua amica di 24 anni, muore improvvisamente. L'unica possibilità è il ricordo nell'immaginazione che l'amica possa ancora ascoltarlo e sorridere alle sue parole. La cosa più interessante per noi è questa, l'uso contemporaneo nello stesso testo di passato prossimo e imperfetto. Per i miei studenti scegliere tra il passato prossimo e l'imperfetto quando parlano italiano è un grande problema. Se voi non avete come lingua madre una lingua neolatina come il francese, lo spagnolo o il portoghese, questi due verbi del passato sono molto strani perché molte lingue non hanno questa differenza. Per esempio i miei amici tedeschi sbagliano spesso. Non è terribile, chiaramente, ma bisogna cercare di migliorare. Il grande, grande problema per i miei studenti che vogliono imparare l'italiano è questo, si chiedono, si domandano quando devo usare l'imperfetto e quando devo usare il passato prossimo. Il problema è complesso e noi cominciamo adesso un po' a spiegarlo perché non è semplice, non c'è una regola semplice. Per ora non parliamo del passato remoto, il simple past, che nella canzone non c'è. Tutti i verbi del passato di questa canzone sono all'imperfetto o al passato prossimo, con una eccezione, è il trapassato prossimo, che si usa per descrivere un avvenimento che è prima di un altro avvenimento al passato. Il trapassato prossimo, che qualcuno chiama più che perfetto, è avevo comprato, mi ero innamorato, ero arrivato. Quindi, se ci immaginiamo di descrivere un avvenimento del passato come questo, quando noi siamo nella macchina, l'incidente non è ancora successo, ma sta per succedere, Francesco ci dice la dolce estate era già cominciata, cioè prima l'estate è già cominciata. Troverete nel link qua sotto tutti i verbi che sono usati nella canzone. Quindi parliamo di imperfetto, passato prossimo, una sola volta tra passato prossimo, poi c'è anche un condizionale e altri tempi, diciamo, minori in questa situazione. Abbiamo anche dieci verbi al passato prossimo, più le ripetizioni, verbi che raccontano le cose che accadono, quindi avvenimento. Anche in questa occasione i verbi con ausiliare essere, vi ricordate in italiano qualche volta molto spesso avere e qualche volta essere, ma anche in questo caso i verbi essere sono la maggioranza. Crollare, che è un verbo che significa cadere, lo usiamo per le case, lo usiamo per la temperatura che crolla, diminuisce rapidamente. Un albero può crollare. Guccini ci dice che il cielo è crollato improvvisamente, chiaramente non è che il cielo è crollato, ma questa è la sensazione delle persone che erano nella macchina mentre avevano l'incidente. La vita è finita, la vita è fuggita, la strada è impazzita. Impazzire significa diventare pazzo, di solito le persone diventano pazze, non la strada. La strada non impazzisce, però questa è la sensazione soggettiva, sempre della persona che sta avendo un incidente. La macchina si capovolge durante l'incidente. Turn upside down. Si capovolge e va su un'altra macchina. Un altro verbo che usa l'ausiliare essere è un verbo importante, è il verbo servire. È a cosa serve? What's the use of something? Vi metterò nel link che troverete qua sotto un esercizio, anche per il verbo servire, qui c'è il passato prossimo che è più difficile. Vi metto l'esercizio nel presente per cominciare. L'ultimo verbo che vediamo al passato prossimo con l'ausiliare essere è uscire, è un verbo di movimento. Normalmente i verbi di movimento in italiano usano essere, come in tedesco, come in francese. Abbiamo anche i verbi con avere, quindi hai dovuto partire, cosa hai pensato, cosa hai provato e lo schianto, lo scontro ti ha ucciso. Uccidere, ucciso. Qui c'è anche un participio irregolare. Quindi la canzone si conclude con forme verbali al presente, ma dal punto di vista dei verbi e della struttura complessiva sono molto più interessanti le parti al passato. Troverete un esercizio di comprensione nel link che trovate qui sotto in descrizione. Molto bene, grazie per aver ascoltato. Se vi è piaciuto like, per favore. Se vi è piaciuto veramente, se vi piacciono veramente i nostri video, iscrivetevi al canale, così potete seguirci e ci saranno presto delle grosse novità su questa serie di video per imparare e migliorare la nostra conoscenza dell'italiano. Grazie, ciao e alla prossima!